Una vittoria che si annuncia schiacciante, se l'aspettava anche rispetto a quanto fatto in campagna elettorale? Gli ultimi giorni abbiamo notato questo affetto importante nei confronti della nostra proposta politica e quindi la speranza che effettivamente San Michele si riunisse intorno a noi per affrontare le sfide che ci attendono, le sfide importanti, quindi noi abbiamo sempre puntato a tenere unita la comunità e oggi finalmente con questo risultato chiudiamo definitivamente con il passato e veramente San Michele potrà guardare al futuro con molta più soddisfazione. Adesso si riparte anche da quanto fatto nell'ultimo mandato? Si riparte da quando abbiamo fatto molto, abbiamo gestito al meglio l'emergenza sanitaria, oggi riprendiamo con la determinazione propria del fatto che dobbiamo inevitabilmente fare il salto definitivo. San Michele è pronta a fare un salto definitivo verso il futuro e questo è un buon viatico, quindi siamo convinti che fra cinque anni ci sarà una San Michele molto ma molto più bella. Per chiudere c'è qualcosa che si sente di dire ai cittadini che l'hanno rivotata? Io ringrazio tutti i cittadini per questa attestazione di stima e di affetto nei confronti della nostra squadra. Un pensiero particolare ai bambini, abbiamo visto che i più grandi protagonisti di questa campagna elettorale sono stati bambini che seppur non avevano il diritto al voto hanno partecipato e hanno invogliato i nonni e i genitori a votare per noi. Per me è stata veramente una soddisfazione straordinaria vedere questi bambini che si rivolgevano a me con la speranza di vedere un futuro migliore.